Riunione a Casoli del Comitato Provinciale per la Sicurezza, una riunione che di solito periodicamente viene effettuata a Chieti, stavolta come mai? Lo chiediamo al Sindaco di Gesso Palena inaugurato, come mai questa nuova location? Siamo contenti che questa conferenza si svolga qua a Casoli, un comune delle zone interne della nostra provincia e la dimostrazione della vicinanza delle istituzioni alle problematiche e soprattutto in questo caso alla difficoltà che stiamo vivendo per quanto riguarda la sicurezza. Esiste un'urgenza, esiste una difficoltà nel contrastare questo momento di grave disagio, di grave difficoltà che noi viviamo e la prova che oggi tutti intorno a un tavolo, come si dice per consuetudine, ci ritroveremo per discutere del nostro territorio e di come garantire una maggiore efficienza e soprattutto una maggiore tutela della nostra cittadinanza. Ci sono dei presidi di forze dell'ordine, mi riferisco per esempio a Pizzoferrato che rischiano la chiusura, questo è un problema che caratterizza un po' i piccoli centri. È un problema molto serio, la riduzione delle spese per quanto riguarda la sicurezza arrivano anche nel nostro territorio e quindi dobbiamo anche noi verificare le difficoltà che purtroppo diventano sempre più difficili da sostenere per quanto riguarda un territorio così ampio come quello che noi abbiamo. La difficoltà maggiore è appunto nel garantire una presenza costante e continuativa. Noi abbiamo chiesto una maggiore presenza, non vogliamo assolutamente essere noi quelli che vogliono essere maggiormente tutelati, però non vogliamo neanche essere abbandonati. Al Gesso Balena, al suo comune, mi sembra che è prevista anche l'installazione di una serie di videocamere di sorveglianza. Diciamo che non è la prima conferenza a cui partecipiamo, come sindaco forse è la decima che è come anche ex presidente della mia comunità montana. Abbiamo posto già da tempo una maggiore presenza, una maggiore vigilanza, abbiamo raggiunto un accordo con il Comitato Provinciale e con Sua Eccellenza il Prefetto, abbiamo lavorato per trovare anche noi delle risposte che siano risposte di collaborazione, di presenza, anche di dissuasione di questi fenomeni, sia attraverso le nostre forze di polizia locale, sia attraverso i nostri uffici di anagrafe e oggi abbiamo messo a disposizione un contributo notevole per creare una rete, non in un solo comune, ma in dieci comuni. Noi andremo praticamente a controllare, a monitorare con 27 telecamere all'inizio, sicuramente ne saranno di più anche perché allargheremo agli altri comuni, quindi vigileremo costantemente e registreremo in una settimana tutti i movimenti che ci sono nei nostri comuni. Avremo due punti di controllo generale, sia a Palena sul versante dell'Aventino, sia a Casoli e ogni comune avrà la possibilità di controllare sul proprio comune e quindi di verificare costantemente nelle 24 ore tutti i movimenti che ci sono. È una grossa risposta e soprattutto una risposta che noi diamo per garantire maggiore sicurezza non solo in termini di presenze, ma soprattutto per creare una sinergia tra le forze predisposte alla vigilanza e le istituzioni come quella che noi rappresentiamo dei comuni.